Bentrovati ad una nuova lezione del corso di montaggio video Adobe Premiere Sono Fabio Ambrosi e anche in questa lezione vi accompagnerò nel meraviglioso mondo dell'audiovisivo Zan zan! Ancora non apriamo Adobe Premiere Però vi do una buona notizia, questa è l'ultima lezione teorica Dopodiché inizieremo finalmente a scendere un pochettino più nel pratico Quindi ultima lezione teorica Indispensabile anche questa lezione per poter poi lavorare bene con Premiere Questa forse è la lezione più complicata di tutte Perché quello che devo spiegarvi è difficile da illustrare a parole Ma probabilmente guardando le immagini che tra un po' vi farò vedere capirete subito dove voglio arrivare Allora la scansione di un video Cosa vuol dire scansione progressiva e cosa vuol dire scansione interracciata Arriviamo subito al punto Quando noi vediamo un video, come abbiamo detto, vediamo tante immagini fatte scorrere rapidamente nel tempo Tanti fotogrammi, ok? Quando facciamo scorrere un video cosiddetto progressivo Quello che noi facciamo non è altro che far vedere un video come se passassimo davanti ai nostri occhi Tante immagini, tante fotografie riprodotte per intero, ok? Quando invece facciamo scorrere davanti ai nostri occhi un video cosiddetto scansione interracciata Dobbiamo immaginare di far scorrere davanti ai nostri occhi tanti fotogrammi Non interi, ok? Ma tanti fotogrammi composti da righe, ok? Chiamate campi Righe pari e righe dispari Sono due modi diversi di creare l'illusione del movimento La scansione progressiva e la scansione interracciata Non mi addentro, non mi avventuro troppo in tecnicismi Lascio fare questo a chi è più esperto di me E se siete interessati a capire bene cos'è la scansione interracciata La scansione progressiva Cercate bene su internet Troverete sicuramente delle guide e dei video che lo spiegano molto bene Io evito di andare oltre per non darvi informazioni sbagliate Però se noi andiamo a vedere un video di esempio Sono sicuro che capirete meglio quello che sto cercando di dirvi Guardate il video a sinistra Vedete che è composto sostanzialmente, questa pallina Da tante piccole righine, ok? Questo perché? Perché nel far scorrere il fotogramma Questa immagine è composta da tante righe E queste righe andandosi a sovrapporre l'una all'altra Danno il senso del movimento e ricompongono l'immagine Guardate invece l'immagine alla vostra destra L'immagine alla vostra destra non ha nessuna di quelle righine Che abbiamo visto a sinistra Perché? Perché l'immagine a destra è composta sostanzialmente da fotogrammi interi Ovvero a scansione progressiva Questo perché è importante quando andremo a montare? Quando andremo a montare è importante perché dovete sostanzialmente ricordare come regola Ok? Ribadendo che poi se volete approfondire fatelo pure E anzi commentate pure questo video Se riuscite a spiegarlo in maniera più semplice di quanto sia sicuramente facendo io Dicevo perché è importante? Perché quando andrete a utilizzare un qualunque software di montaggio Sostanzialmente dovete ricordare questa semplice regola Che quando lavorate per la televisione Per un DVD Per la produzione di un DVD O per la produzione di un Blu-ray Sostanzialmente dovrete esportare e lavorare in maniera interlacciata Ok? Vado a dire dovrete dividere l'immagine in campi Ok? E esportare il classico interlacciato Quando lavorate per il web O per contenuti che devono essere riprodotti sul monitor di un computer La scansione deve essere invece progressiva Perché i monitor dei computer lavorano a scansione progressiva Sono Fabio Ambrosi Registratevi al mio canale YouTube Per restare aggiornati sulle prossime pubblicazioni dei prossimi tutorial Venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it Seguitemi su Facebook Se avete commenti fateli qui sotto Se volete fare aggiunte fateli qui sotto Se avete domande cercherò di rispondere Fatelo sempre commentando questo video Grazie mille per avervi seguito Alla prossima lezione